Un elegante signora con un cappotto dal collo di pelliccia ricce il naso in direzione del gentiluomo che le sta maliziosamente facendo l'occhiolino. Impegnati nei loro scambi amorosi, i due non notano il vecchio mendicante con la giacca logora. L'acquerello è un'aspra caricatura delle condizioni sociali della Germania nel periodo a cavallo tra le due guerre. Satira del vuoto patriotismo, dell'egoistica avidità e della sessualità depravata dell'epoca, l'opera appartiene a un ciclo di lavori caratterizzati da toni da incubo. Inizialmente caricaturista, Gross aderì poi al movimento Dada nel 1918. Disgustato dalla decadenza di una società dalla morale distorta, corrotta da propaganda e mollezza, espresse il proprio sdegno in moderni caricature, fortemente polemiche, a causa delle quali fu costretto a emigrare negli Stati Uniti.